Ed è arrivato anche un nuovo prodotto sul catalogo di Backpack, un'altra torcia frontale di Petzl, sicuramente una delle mie preferite, la Swift RL, vedrete spesso nei video che la uso perché mi fa davvero comodo, è una torcia davvero piacevole da tenere in testa con la sua fascia riflettente e irregolabile, abbraccia la nuca in questo modo, io la metto così. Come vedete abbraccia la nuca in due punti, adesso la tolgo e cerco di rimettermi a posto i capelli, ma è chiaro che ha una presa molto confortevole sulla testa. Ci sono tante torce da mettere sulla fronte, tante torce frontali, qui è quando si fa sul serio, la Swift. RL sta per Reactive Light, che significa che con questo sensore la torcia frontale è in grado di reagire alla luminosità esterna. Perché è comodo da morire? Perché se sto parlando con un'altra persona che ha una torcia, o se mi sto muovendo in una grotta, o semplicemente facendo dei lavoretti a casa, Se incontro una superficie riflettente, immediatamente mi abbaglio. In generale, se ho troppa luce in qualcosa, mi abbaglio. Molte torce sono regolabili manualmente e stiamo noi a dover organizzare la luce in modo che, se sto facendo un'operazione come leggere una mappa, posso farla. E se sto invece camminando, correndo, o voglio vedere che succede 25-30 metri più avanti, posso farlo con un altro faretto di profondità, con un altro LED di profondità. Io adoro questa torcia per tutta una serie di funzioni intelligenti che ha, ma di solito le funzioni intelligenti le rendono pure complicate le cose, mentre questa volta no. Ci sono tante cosine da sapere, ma poche, per farla funzionare bene. La prima è che c'è un blocco meccanico sull'accensione. Questo vi salverà le escursioni. Facetta super regolabile, super comoda, con doppio sistema sul retro della testa, e inserti catarifrangenti per essere più visibili nella notte. Swift RL Reactive Light. Quindi una torcia in grado di percepire, di misurare la luminosità dell'ambiente e derogare solo la luce che serve. Una cosa da ricordare, questa torcia ha due modalità. La modalità automatica, chiamiamola così, Reactive Light, e invece la modalità manuale. Ma insieme a giocarci è tutto più facile. Allora, sblocco l'accensione spostando di qua, vedete, il pulsantino. Ora sono in grado di accenderla. Ogni volta che l'accendo, lei inizia con la Reactive Light. E adesso sta erogando pochissima luce, perché siamo in studio e ho diversi faretti puntati su questa postazione. Se restassi un paio di minuti così in questo ambiente, si spegnerebbe proprio perché sa che io ho la luce che mi serve. Posso però dirle che mi serve una potenza più alta e allora incrementa la luce erogata e allo stesso tempo reagisce diversamente alla luce dell'ambiente. Essendo qui in studio, la potenza che fornisce è sempre limitata, perché anche se io le chiedo di vedere molto meglio, sa che io ci sto comunque già vedendo bene. Però proviamo a simulare con un ditino il buio. Vedete? Ecco, adesso io sto coprendo il sensore e lei reagisce a questa manovra. Se però mi trovo in una condizione in cui non voglio che sia lei a decidere la quantità di luce da erogare, mi basta tenere premuto il pulsantino. E sono passato in modalità manuale. Non la oriento verso di voi, anzi sì, ok l'ho fatto, ok l'ho rifatto. Volevo farvi notare anche un altro aspetto che mi piace da morire, l'indicatore di batteria. Qui sopra ci sono 5 led che si accendono ogni volta che attivate la torcia oppure quando la spegnete. Ecco la cosa bella di questi led è che ognuno indica il 20% di carica, ma la batteria di questa pezzel è veramente una cosa tosta. Ve la faccio vedere di qua, per accedere alla batteria dovete ruotarla verso l'alto e poi un po' di più. E vedrete come lei gira. Sul retro c'è la batteria, una batteria a litio ovviamente accessibile in questo modo, mi basta tirare indietro la levetta ed eccola qui. Volendo, se ho bisogno davvero di tantissima autonomia, ma con il sistema Reactive questa dura tanto perché vi dà solo la luce che vi serve e risparmiate un sacco di batteria, va bene, comunque se avessi bisogno di un'altra batteria le trovate sempre disponibili su backpack.it, così per esempio per una spedizione molto lunga potete portarvi 2, 3, 4 batterie ed essere sicuri che comunque la luce l'avete sempre. Vedete qui una zona dove c'è un dissipatore di calore perché è comunque una luce potente. Notate una cosa bella anche questa, oltre a inclinarsi verso il basso così, ha anche l'inclinazione verso l'alto. Ho la mia torcia qui, bella tattica, se ho bisogno di guardare avanti mi basta orientarla verso l'alto. Se avessi avuto una torcia normale come questa LED Lancer, guardate che non posso guardare in avanti, cioè adesso io ho la mia torcia al collo e non posso orientarla in avanti, mentre questa qui potevo tranquillamente orientarla in avanti ed è geniale questa novità, è geniale. E durante la ricarica ovviamente si accende un LED che indica lo stato della ricarica.